E' davvero difficile ragazzi contenere 5 prodotti in un singolo video. Quest'anno ci sono stati tantissimi smartphone davvero molto molto interessanti ed ecco perché tramite la community YouTube avete visto la nuova funzionalità vi ho chiesto quali sono secondo voi ragazzi 5 migliori prodotti di questo anno. Ovviamente la classifica sarà in ordine sparso quindi non ci sarà una scaletta ma saranno davvero 5 prodotti che a me hanno stracolpito. Il primo prodotto anzi i primi due prodotti perché alla fine sono praticamente identici tranne ovviamente display e batteria sto chiaramente parlando dei nuovi Samsung Galaxy S8 ed S8 Plus. Due prodotti che ragazzi o li amate o li odiate comunque sono stati due telefoni che hanno stravenduto sono stati due prodotti davvero molto molto interessanti e finalmente qualcosa di diverso ha i suoi difetti per carità perché lo sblocco perché comunque tante funzionalità che magari mancano a questi due smartphone come ad esempio un software più veloce più snello un qualcosa insomma di più performante però sono assolutamente due telefoni che vanno bene che fanno ottime foto che fanno ottimi video che hanno un'ottima durata della batteria e adesso si trovano ovviamente ad esempio su Amazon ad un prezzo molto molto interessante. Troverete chiaramente tutti i link dei prodotti nella descrizione vi lascerò i link di Amazon se acquisterete qualsiasi cosa tramite quei link a me arriverà ragazzi una piccola piccola percentuale e a voi non costerà nient'altro di più. Adesso ragazzi voglio menzionarvi due prodotti che metto in un'unica scatolina. Il primo è LG V30. V30, V30, lo vedi a IFA? Era a Berlino? Settembre, ottobre, novembre? Tre mesi, tre mesi e poco più? Ah se avete visto un V30 in vendita? Sì perché LG con il suo V30 doveva davvero spopolare sul mercato a tutte le carte in regola un bellissimo display, una bellissima fotocamera, anzi una dual camera, la possibilità di editare video davvero in maniera incredibile con delle funzionalità dedicate proprio all'editing video soprattutto un DAC dedicato per quanto riguarda l'audio, la ricarica wireless cioè tutte finalmente le carte in regola per sbancare su questo mercato e mettere proprio questo prodotto nuovo, questo prodotto che ha colpito a IFA di Berlino ma l'avete visto voi in vendita? Cioè io veramente ragazzi non è ancora arrivato per quanto riguarda la recensione ho chiesto l'ufficio stampa, non c'è proprio dispositivo, non c'è risposta, non c'è niente ragazzi ma questo V30 che fine ha fatto? l'ho visto in vendita in alcuni centri team quindi speriamo che sia davvero arrivando perché sulla carta vi ripeto è un prodotto molto interessante un altro smartphone che inserisco sempre in questa scatolina è Huawei Mate 10 Pro sì perché è un'altra azienda che proprio non mi calcola assolutamente per quanto riguarda le recensioni quindi l'avete visto non arrivano recensioni targate Huawei sul mio canale purtroppo ragazzi qui in Italia c'è un ufficio stampa, io ci parlo e non mi arrivano i dispositivi in testa quindi io vado sulle parole di Luca Ceraso di Geats China perché Luca mi ha detto guarda Ema ti assicuro che questo è davvero il telefono migliore per quanto riguarda casa Huawei quindi Huawei Mate 10 Pro è davvero un top di gamma, assoluto in descrizione vi lascerò la recensione, la video recensione di loro perché almeno potete vedere il prodotto e potete constatare voi stessi magari l'efficienza di questo terminale come non nominare ragazzi come terzo prodotto OnePlus? cioè io non posso non nominare OnePlus OnePlus che ha tirato fuori questo 5T non è una rivoluzione ragazzi in molte mi avete chiesto Wers ma io che ho OnePlus 5 merita il passaggio al 5T io vi ho sempre detto ragazzi non merita a meno che voi proprio non vogliate un display 18-9 anche perché l'hardware è quello di OnePlus 5 che ancora ad oggi è un telefono assolutamente performante quindi se non siete un utente smaliziato se non siete un utente che vuole l'ultima novità ecco che non merita il passaggio al 5T 5T è un ottimo prodotto ma è anche un ottimo prodotto il 5 che si trova magari adesso usato perché le persone vogliono cambiare e si trova a prezzi davvero molto interessanti ed è vi ripeto un prodotto che va stra bene cioè l'ho consigliato a Lorenzo di Pianeta Smart l'ha comprato e mi ha detto ma davvero questo è un prodotto incredibile e poi ovviamente sempre in casa OnePlus c'è l'elevato rapporto qualità prezzo perché i telefoni si svalutano veramente poco e soprattutto vanno bene anche durante il tempo è arrivato Oreo sia per quanto riguarda OnePlus 3 OnePlus 3T è arrivato anche le prime beta sul 5 mi pare e lo sto aspettando finalmente questo Oreo sul 5T che ancora non arriva e come ho detto nella video recensione completa beh questo è un primo difetto del telefono mi tiri fuori un prodotto al lancio ma ancora è davvero una cosa che non mi è andata giù altro piccolo scatolina metto due dispositivi targati Xiaomi lo Xiaomi Mi Mix 2 perché non si può ragazzi non inserire è bello al tatto, performante, una scheggia manca secondo me in fotocamera e videocamera e soprattutto manca ancora in una MIUI completa al 100% ovviamente è un'interfaccia bellissima un'interfaccia con tante funzionalità ma a mio avviso mancano quelle di base dall'altra parte come non mettere un best buy assoluto? se non erro si è aggiornato proprio in questi giorni ad Android Oreo è a poco più di 200€ con banda 20 64GB magari in colorazione nera che secondo me è la più bella come ragazzi non acquistarlo cioè solamente per tenerlo come tra virgolette muletto Snapdragon 625 dura tantissimo la batteria avete visto anche il video no? sopravvivere tra virgolette è ovviamente un titolo abbastanza forte 7 giorni con Xiaomi Mi A1 quindi un dispositivo da 200€ si può assolutamente fare perché non gli manca niente a quel telefono come ultimo prodotto inserisco ovviamente iPhone X iPhone X è un prodotto che separa come sempre è stato nei prodotti Apple o ti piace o ti fa assolutamente cagare questa è un po' la filosofia Apple perché chi ama i prodotti Apple iPhone X secondo me è un prodotto incredibile prodotto dalle funzionalità interessanti utilizzare un telefono senza nessun tipo di tasto quindi tutto a swipe io ormai è un mese più o meno che ho questo telefono e assolutamente mi ci trovo benissimo magari ragazzi non sarà il vostro telefono ci mancherebbe altro però io vi dico la mia esperienza davvero da utilizzatore di questo telefono è assolutamente un prodotto interessante un prodotto performante e chi ama quel genere di prodotto deve andare secondo me su iPhone X se vuole un qualcosa diverso ho targato Apple chi ama i prodotti Apple chi apprezza il brand non guarda il terzo ragazzi lo so che è una cosa molto strana da dire perché non mi viene altri termini ma è assolutamente così quindi iPhone X ad oggi se uno vuole un iPhone diverso se uno vuole un iPhone tra virgolette in casa Apple rivoluzionario deve per forza andare su quel prodotto ci sono tantissimi altri telefoni che possono rientrare in questa categoria io ragazzi ho dovuto sceglierne 5 avete visto ho aggiunto qualche piccolo plus in più proprio per darvi una panoramica questo video poteva entrare di tre potenze in classifica Stone X1 non ce l'ha fatta proprio per una frazione di performance datemi però la possibilità di inserire un piccolo outsider che è proprio lì e adesso li ho visti usati intorno ai 400 euro su Subito.it e vari mercatini HTC U11 secondo me un prodotto che deve rientrare in questa classifica e visto che LG non commercializza non propone questo cavolo di V30 io come outsider assolutamente visto che Oreo è alle porte anche su quello smartphone HTC U11 è un prodotto anch'esso molto molto performante nemmeno ragazzi a dirvelo il box dei commenti è tutto aperto è tutto per voi quindi discutiamone insieme di questi top 5 smartphone 2017 ovviamente io come di consueto ragazzi vi ringrazio vi saluto vi aspetto sui miei social vi aspetto su Instagram chiocciola at insomma wertz86 perché ragazzi sta arrivando un contest su quel su quel social regaleremo come ho già fatto tanti codici per scaricare dei pacchetti icone che arriveranno nella home screen di dicembre che sto preparando per voi mi manca solamente il widget per quanto riguarda la la pagina principale quindi è un widget lo sto cercando ecco mi manca quel tassello appena troverò quel tassello bam arriverà sul canale anche la home screen di dicembre e su Instagram nelle stories ne vedremo davvero delle belle per oggi ragazzi è tutto e come di consueto noi ci sentiamo nei prossimi video ciao ciao